Buongiorno ragazzi, abbiamo veramente 5 minuti oggi perché ho una live così sarà breve e intenso, quinto giorno di 21, mi raccomando, salvate il video sulla tua baccheca e misurate il punto vita e lo tenete ovviamente tra 21 giorni, vi fate vedere la foto della misurazione del vostro punto vita e poi comparative delle foto, mettiamo giù e facciamo queste plank giusto, mi giro il fianco verso basso, sollevole anche e la trattengo per almeno 30 secondi, purtroppo sono senza orologio, andrò a naso, buongiorno a tutti, mandatemi i cuorecini se vi piacciono questo video per favore e condividi questo video sulla tua baccheca, così c'è la possibilità di ritrovarla e siamo al giorno 5, sono 5 giorni di seguito che vi invito di seguire i miei esercizi per poi averli a disposizione quando ti serve per fare il tuo allenamento, vai dall'altra parte. Dico anche un'altra cosa, io ho un piccolo mio abbonamento su Instagram, se volete su Instagram potete abbonare dove trovate allenamenti e comincerete a trovare anche lì i challenge, i challenge che servono, e che servono questi challenge? Per allenarci e tonificarci, alzio il punto vita, la trattengo, ancora facciamo 8 e 7 e 6, no facciamo ancora un po', ok? perché ricordate che ogni singolo allenamento per il punto vita, questi 21 allenamenti, sarà leggermente diverso dall'altro giorno e questo ci permette di avere più risultati, continuiamo per 4, per 3, per 2, ok? Mi rigiro poco poco così, avete un altro visuale? da qui, scendo giù, tiro su, ginocchio, giù, giù, su, ginocchio, uno, tiro, due, tiro, se non riesci a fare questo con il ginocchio, fai soltanto giù e su, fai uno, e due, tre, e quattro, e cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, dammi ancora cinque, cinque, e quattro, e tre, c'è pochi cuori oggi, perché pochi cuori oggi? Non mi amate più? Ve ne devo smettere di fare questo? Oh, io vi mando il cuore, eh? Cuori, 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 vediamo se arriva da qua, rivela qua il mio cuore, vai, vai, rivelando cuori, cuori, ogni tanto, ecco, io devi dare il mio cuore verso di voi, oh, ok, andiamo dall'altra parte, scendo giù, posso provare di rimanere nell'inquadratura, giù, su, tiro, giù, su, tiro, posso arrivare giù e su, giù e su, oh, giù, tiro, due, tiro, tre, tiro, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, cinque, e quattro, e tre, e due, e uno, ok, su, da qua in ginocchio, andiamo a toccare da una parte, toccare dall'altra parte, dominali tesi, qui, e qui, tocca e gira, questo è blocco neanche, alla perfezione, e continuiamo ad andare, voglio vedere i cuoricini, giorno 5 di 21, ogni giorno, un allenamento, ti memorizzi i nostri video, gli fai il video, chi ama questi video, voglio vedere i cuoricini, voi i cuoricini, tiratemi su, è sabato, è una giornata meravigliosa, e io vi mando i cuoricini, e voi che vuoi mi mandate i cuoricini, così siamo tutti sulla stessa strada, stessa pagina, perché la positività porta positività, la positività porta, ecco, grazie a un cuoricino, un cuoricino, io ti abbraccio, chi mi ha mandato quello, un cuoricino, potete anche mandarmi più i cuoricini, sai, fai così, ping 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 ping, mi potete mandare più i cuoricini, grazie, sono gratuite, ricordate sempre che sorriso gratuito, questi elementi sono gratuiti, e sono fatti con il cuore, avevo poco tempo, ma ci volevo allenarmi con voi, perché c'è una live adesso, no, lascio questo per il trampolino, e ricordate ragazzi, che ogni giorno abbiamo la possibilità di fare qualcosa per il nostro corpo, così, allenatevi, fate tutti questi allenamenti, 5-7 minuti al giorno, punto vita migliore e meno di 3 settimane, ciao, scappo, e vado a fare il mio live, ciao!